In qualche modo siamo una svolta epocale, a un momento nel quale il debito non può perfungere da camera di compensazione delle difficoltà e soprattutto dei conflitti che emergono nella società reale, ma che per dare risposta ai gravi problemi che abbiamo di fronte, non lo devo dire a voi che tutti i giorni con le vostre imprese vi confrontate con questi problemi, è necessario tornare a produrre ricchezza. Perché purtroppo quello che ci consegnano le statistiche internazionali, prima tutti i confronti internazionali, e prima ne stava parlando il sottosegretario Polillo, è che purtroppo nel nostro paese noi abbiamo perso una grande occasione, soprattutto se noi guardiamo le statistiche a confronto con quelle tedesche, l'occasione dell'Europa degli ultimi vent'anni, nel quale il debito, per almeno un decennio, è stato un debito facilmente sostenibile grazie all'integrazione europea. Nello stesso periodo purtroppo nel nostro paese all'aumento del costo del lavoro non si è aumentato un aumento della produttività, anzi se noi guardiamo tutte le statistiche comparate, noi vediamo che nel nostro paese c'è un andamento curiosamente inversamente proporzionale tra quanto è aumentato il debito e quanto è diminuito la produttività. Quando il debito negli anni 70 era basso, la produttività nel nostro paese era molto alta, tra le più alte d'Europa. Più è cresciuto il nostro debito, più la produttività è scesa, segno che il debito faceva anche da camera di compensazione di quella produttività che non veniva recuperata all'interno del sistema. Che cosa è accaduto nel nostro paese nello stesso ventennio mentre in Germania quindi si faceva questa duplice operazione, integrazione del mercato del lavoro e quindi creazione di un mercato del lavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.